Liste clonate, candidati che non sapevano di esserlo, consiglieri comunali fantasma. C'è anche questo nell'inchiesta a Candidopoli della Guardia di Finanza di Padova che, su un mandato dalla Procura di Rovigo, ha scoperchiato un sistema elettorale orchestrato dall'altra Italia, un movimento politico che si è presentato in numerose contese elettorali locali. I finanziari hanno eseguito nelle province di Foggia, Lecce e Rovigo un'ordinanza con sette misure cautelari personali emessa nei confronti dei vertici del movimento politico. Agli arresti domiciliari è finito il fondatore, nonché segretario nazionale, Mino Cartelli. Per quattro persone è stato emesso l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre due consiglieri comunali autenticatori hanno ricevuto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubbliche funzioni per 12 mesi. L'altro consigliere è Gianluca Tritiello di Lecce, destinatario dell'obbligo a presentarsi alla Polizia Giudiziaria, Franco Merafina di Cerignola e Felicetta Tartaglia di San Paolo di Civitate. In totale sono state denunciate 15 persone, sia membri del direttivo dell'altra Italia, sia pubblici ufficiali compiacenti per violazione del testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali. I primi accertamenti avevano permesso agli investigatori di verificare come, nel corso delle tornate elettorali per la nomina di sindaco e consigliere comunale a Barbona e Vighizzolo d'Este in provincia di Padova, il movimento politico avesse presentato liste di candidati formati da soggetti iscritti nella maggioranza dei casi, a loro insaputa. La procura di Rovigo così ha esteso le indagini ad altri 21 comuni dove il movimento politico aveva presentato i propri candidati nel settembre del 2020. Così i finanzieri hanno interrogato un centinaio di candidati, eseguito a perquisizioni in Veneto e in Puglia e hanno acquisito documenti presso le commissioni circondariali elettorali dei 23 comuni. I candidati risiedono principalmente nel Foggiano, in particolare a San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Cerignola e nell'Eccese, a Ugento. In qualche caso si trattava di candidati anziani ultraottantenni o persone con forti disabilità fisiche in località distanti, migliaia di chilometri dalla propria residenza. L'obiettivo principale era quello di presentare candidature in piccole realtà territoriali dove, approfittando della specifica normativa settoriale, vi era una buona probabilità di eleggere un proprio rappresentante per ottenere una visibilità sull'intero territorio nazionale, in modo così da far accrescere il consenso per le successive consultazioni elettorali.